Il messaggio è abbastanza forte e chiaro. Il Comune non intende abbandonare tutte quelle attività e pensiamo ovviamente ai bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e tante altre partite IVA, costrette ancora una volta ad abbassare la serranda, tutte o a livello parziale, a causa del ritorno imperioso del coronavirus. Ed ecco allora che qualche giorno fa da Palazzo Gentile hanno deciso di mettere in atto alcune misure di sostegno a vantaggio di questi soggetti. La prima è un contributo a fondo perduto di ben 175.000 euro per tutte le attività commerciali colpire dal lockdown di marzo e aprile. Per ottenere il contributo, che sarà una tantum fino a 1000 euro per le attività commerciali e fino a 400 euro per i titolari di posteggio sulla Repubblica, sarà necessario presentare domanda entro il 20 novembre, termine di stradenza fissato dal bando. Il fondo messo a disposizione sarà ripartito in base alle domande pervenute. Non è tutto perché proprio in tema di bandi, entro la fine di novembre, il Comune ne pubblicherà un altro rivolto alle attività di ristorazione e che vedrà la concessione di un contributo, una tantum, a sostegno del pagamento delle spese di affitto o mutuo per un importo variabile tra il 30% e il 100% della mensilità di novembre, calcolato in base alla perdita di fatturato che ogni attività registerà in percentuale a novembre rispetto a novembre 2019. Un sostegno, anche se misura minore, è previsto per le attività avviate quest'anno. È di 500 euro invece il contributo per la copertura di spese, fitti e utenze per le squadre sportive, più spazi pubblici all'aperto per svolgere le attività sospese. Tutte queste misure si affiancheranno a quelle previste dal governo con i vari decreti ristori.